Mattia, benvenuto ad Ascoli, il tuo arrivo era molto atteso, non mancheranno le responsabilità qui per vincere. Responsabilità? Se sono venuto qua è perché sapevo che c'era un grande progetto e detto anche da tanti compagni che ho avuto che hanno giocato qua, è una piazza importante, con dei tifosi importanti, con una società che sta dimostrando di essere importante, con dei bei progetti, adesso tocca a noi, tocca a me, prenderò queste responsabilità e darò il massimo per tutti. In tanti ti considerano uno dei colpi di questa prima parte del calciomercato dell'Ascoli, come sono partiti i primi contatti con la società bianconera? Sono partiti già diversi mesi fa, io di proprietario ancora del Vicenza, quindi per quanto io potessi dire sì ok, mi piacerebbe, insomma ci è voluto un po' di tempo e eccomi qua, quindi sono contentissimo di questa scelta e ora che sono arrivato qua e mi sto allenando col mister, con i compagni, sono ancora più contento, quindi bene. Conosciamo le tue doti di corsa, ti abbiamo battezzato il cavallo della corsia di destra, nel modulo 4-2-3-1, ti trovi alla grande, lì sulla destra, nella batteria dei trequartisti. Sì, mi trovo benissimo, è un ruolo che ho ricoperto l'anno scorso, mi so adattare anche se dovesse servire in altri ruoli, quindi quello che vorrà il mister, io sarò a sua completa disposizione, però di certo questo modulo a me piace, piace giocarlo. Grazie. 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 Grazie.